Ciao a tutti, quanto tradisce il seno dello scorpione? Il seno dello scorpione viene spesso rappresentato come uno dei segni, è sicuramente uno dei segni più passionali dello zodiaco, ma viene spesso rappresentato anche come uno dei segni più infedeli dello zodiaco. In realtà non è così. Quando vive una passione molto forte, il seno dello scorpione è fedele. E quando è coinvolto, sia gli uomini che le donne del segno dello scorpione sono fedeli. Se però la storia non lo coinvolge in modo profondo, in modo istintivo, in modo passionale, in modo viscerale, può diventare fedifrego, concubino e manipolatore, nel senso che nasconde alla perfezione le sue scappatelle. Sa vivere più storie, diciamo, senza sensi di colpa. Quindi con questo segno, diciamo così, non sei mai totalmente al riparo dalle corna. E se hai a che fare con la donna dello scorpione, devi mantenere anche dei ritmi di passionalità molto elevati, altrimenti è facile che, insomma, ci siano. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!